Ciao a tutti, benvenuti alla settimana di intercessioni per le elezioni politiche di domenica. Affidiamo tutto quanto nelle mani di Dio perché la nostra Italia possa risorgere. Nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, oggi mercoledì. Signore Gesù, ti vogliamo invocare, invocare il tuo nome sulla nostra Italia, soprattutto per ciò che è le famiglie. Signore, fa che chiunque verrà eletto, Signore, che sia credente o no, diventi uno strumento perché siano benedette le famiglie in Italia, soprattutto le famiglie cristiane che confidano in te, Signore. Tu sai che è la famiglia, il vero nucleo della rinascita di una nazione. Fa che ci siano leggi, degreti, che possono aiutare davvero tutto coloro che hanno dei figli, che vogliono far crescere l'Italia da un punto di vista cristiano. Fa che ci siano più facilità per avere un figlio che molti non si spaventino e che ci siano leggi giusti che preservino anche la famiglia naturale, Signore. Quindi davvero manda una tua benedizione perché l'Italia diventi la nazione che benedice le famiglie. Dove avere una famiglia è la vera ricchezza e risorse per tutta la nazione, Signore. E per questo noi ti ringraziamo e ti benediciamo. E ispiraci, Signore, a chi vuoi che tu vuoi che noi votiamo, Signore, Domenica, ma chiunque tu permetterai che vada al governo, che sia un tuo strumento per benedire tutta l'Italia. Nel nome di Gesù. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Che Dio vi benedica. Noi ci vediamo domani. Continuiamo a priare per la nostra Italia. Amen.